Nel corso di una partecipata conversazione al Circolo Sanitico di Campobasso, l'archeologo Mario Ziccardi, studioso del Cinquecento, ha esposto i risultati della sua ricerca su due figure, Isabella di Capua e Ferrante Gonzaga, che hanno segnato la storia di Campobasso, destinandole il ruolo principale di centro della regione. Abbiamo intrecciato quella della nostra città, quindi effettivamente abbiamo avuto questo respiro europeo che è poco studiato nella nostra città, perché effettivamente abbiamo avuto dei personaggi che sono stati comunque dei portenti del Cinquecento. Hanno dato comunque il fatto di essere comunque personaggi che hanno avuto una caratura a livello internazionale dell'epoca, effettivamente ritrovarceli qui a Campobasso, come ho detto prima, partendo anche, costruendosi la loro fortuna, partendo dai figli cadetti, come dicevo, ho detto nell'intervento, l'essere figlio cadetto, comunque valeva una vita ecclesiastica oppure militare, quindi il fatto di aver raggiunto dei livelli comunque così importanti, sia della famiglia di Isabella di Capua, ma anche ovviamente di Ferrante Gonzaga, in due momenti differenti della storia, però effettivamente abbiamo dei personaggi che comunque si sono fatti, tra virgolette, da soli. In questo studio viene dato risalto da una parte della città che si colloca tra il borgo fortificato sotto al castello Monforte ed il borgo Murattiano. Il castello finisce la sua missione difensiva, l'essere comunque un baluardo per la città diventa nel Cinquecento qualcosa di un po' desueto, invece scendendo con Andrea Di Capua, scendendo al piano, sposta anche tutti quanti gli affari verso la città e quindi la naturale espansione fuori dalle mura è un evento davvero importante per la nostra città che poi alla fine si andrà a concludere e consolidare con il lavoro che fece Bernardino Musenga nell'Ottocento con la parte murattiana della città che comunque è molto importante, quindi dà questa dimensione di una città che è un pochetto più di un paese che comunque poteva essere quello del Cinquecento, invece gli dà comunque un respiro che comunque la destina ad essere capitale del Molise. Grazie a tutti.